Parliamo di commercio e sicurezza, la prima domanda che vorrei farle riguarda i centri culturali di San Pier d'Arena, quanti ne sono stati chiusi? Dunque ci sono state diverse indagini, diversi monitoraggi anche perché molti di questi obiettivamente a parte il sovraffollamento, quindi magari capienza 100 persone ce n'erano 250, poi bisogna anche lì che i centri culturali facciano cultura, non diventino dei luoghi dove vendere alcolici e far uscire fuori gente ubriaca per strada, quindi c'è stata un'attenzione, alcuni sono stati chiusi perché ovviamente non c'era rispetto di quello che dovevano essere le leggi vigenti e il monitoraggio continua. Alcuni di questi hanno riaperto magari con un altro nome o affiliandosi ad altre società? Purtroppo poi la legge quando i locali vengono chiusi, se tu chiudi la società la riapri con un'altra società è possibile farlo, infatti sarebbe utile che poi venisse cambiata la legge stessa in modo da dare la chiusura sul numero civico e non sulla società. Ed è una cosa che può fare il Comune? No, è una legge di tipo nazionale, sarà una delle cose che sottoporrò poi come input quando la settimana prossima andrò a Roma, come diciamo una delle cose che potrebbero aiutarci nel decoro, nella vivibilità dei quartieri critici, magari critici non solo per quello ma anche per alcune situazioni di locali che attirano brutta gente che ha solo lo scopo di ubriacarsi e fare casino per strada. Restiamo sempre nella zona di San Pier d'Arena, Cornigliano e parliamo di frutti vendoli, una cosa che si nota andando in giro per le strade che ci sono tantissimi frutti vendoli e minimarket aperti da stranieri. Volevamo sapere, hanno delle agevolazioni fiscali da parte del Comune? È una leggenda metropolitana che non so da dove sia nata, ma non esiste nessuna agevolazione per frutti vendoli stranieri. È vero anche che magari alcuni di questi cosa fanno? Non pagano per un tot di tempo, quando poi arriva il sequestro del tutto cambiano ragioni societarie, intestano magari al fratello piuttosto che alla moglie o quant'altro, riaprono alla nuova società. Quindi è solo per questo per cui alle volte troviamo dei prezzi particolarmente concorrenziali rispetto magari al frutti vendoli italiano, però non c'è nessun tipo di fondo dato a frutti vendoli di origine non italiana. E per quanto riguarda lo spaccio, la questione so che in Viale Canepa, Sestriponente, uno di questi frutti vendoli era stato sorpreso a spacciare. È una cosa usuale? No, non credo. Sullo spaccio ovviamente l'attività investigativa viene fatta dalla Questura fondamentalmente, quindi dal reparto antidroga e quindi sono loro che monitorizzano nelle varie zone della città. Poi naturalmente noi siamo collaborativi e facciamo il nostro, cioè se ci sono delle segnalazioni poi noi le inoltriamo alla Questura che fanno le opportune verifiche. Restando sempre nell'ambito del commercio e sicurezza, stanno proliferando anche questi centri benessere aperti tutta la notte. Sono stati fatti dei controlli, avete idea di che cosa si faccia poi in effetti dentro questi centri benessere? Perché risulta strano fare una ceretta a mezzanotte. Sì, di solito anche lì è la buon costume che se ne occupa, quindi io non ho i dati. Sicuramente tutto questo è generato dalla liberalizzazione del commercio che poteva funzionare vent'anni fa. Oggigiorno secondo me bisogna mettere qualche regola in più senza naturalmente privare la libertà di aprire. Però una regolamentazione un attimino più specifica su alcuni casi che secondo me dovrebbe essere di stampo federalista, cioè affidare ai sindaci delle varie città la possibilità del gestire gli orari. Ci sono alcuni quartieri dove oggettivamente tenere aperte delle attività magari H24 può generare un negativo per il quartiere e una legge di tipo nazionale non può sapere ogni singola realtà di ogni piccola, piccolissima o grande città. È evidente che dovrebbe essere più lasciata l'interpretazione del sindaco che ha, grazie alle segnalazioni dei suoi cittadini, grazie ai municipi, una visione totale di quello che avviene sul suo territorio. La desertificazione commerciale quanto agevola la mancanza di sicurezza nei quartieri? Beh, allora, indubbiamente il commercio sano, e l'abbiamo visto in diverse zone della città, o delle attività buone, aperte in certi quartieri, hanno migliorato notevolmente il quartiere stesso. Al contrario, delle attività non buone, abbiamo visto quelle due attività in Sotoripa, ad esempio, quanti danni hanno fatto, ora si sta cercando di attenzionare, sono stati fatti, ringrazio le forze dell'ordine tutte, per questa attenzione particolare nel cercare di monitorare le realtà che non vanno, cosa che facciamo anche con la nostra polizia locale. Sotoripa si vede anche solo passeggiando. Sì, esatto. Quindi l'attività buona aiuta la sicurezza del quartiere ed è quello che noi, come dire, come input anche di giunta del sindaco vogliamo fare per i quartieri. L'attività malsana invece peggiora il quartiere dove c'è questa attività. Alle volte poi anche una via, basta averne una o due e già il peggioramento della via stessa diventa notevole. Ecco, parliamo per esempio delle sale slot, in questo senso, che cosa può fare il comune? Perché c'era un regolamento comunale che ne limitava gli orari, la vicinanza, le scuole. Sì, quello credo che sia comunque un regolamento che passerà dalla regione e poi noi lo visioneremo come comune e poi, come dire, so che c'è una stretta sinergia tra il nostro assessore Paola Bordilli e l'assessore regionale Andrea Benveduti anche su questi temi, quindi sono loro che stanno gestendo un po' il tutto e credo che comunque è una collaborazione, anche perché è ovvio che dovendo la legge era di matrice regionale e poi stata, come dire, votata in comune, stessa cosa avverrà in questo caso. È ovvio che la sinergia tra i due assessori è importante per trovare sicuramente dei punti di contatto che vadano bene a regione e a comune. Sarà più complicato adesso che il governo comunque in legge di bilancio ha emanato una proroga per le sale slot? Non lo so. È un campo in cui, francamente, non occupandomi direttamente, lascio volentieri la gestione dei due assessori competenti. Lei le considera un degrado sociale? Non sono tra le attività che mi piacciono di più, questo è evidente. Poi, naturalmente, noi siamo rispettosi delle leggi vigenti, quindi se c'è una legge applicata la facciamo rispettare, sia che sia migliorativa o non migliorativa. Obiettivamente mi preoccupano molto altre attività che creano, ad esempio, gruppi di ubriachi la notte che, grazie ad attività che vendono di fatto solo alcol, danneggiano fortemente il tessuto sociale del quartiere dove sono. Anche la ludopatia, però. La ludopatia è un problema, questo è evidente. Secondo me anche le pubblicità televisive non aiutano, anche lì poi non si capisce alle volte perché è stata fatta una campagna feroce contro il tabacco, non viene fatta una campagna feroce contro l'alcolismo, ad esempio, che è una piaga che si sta diffondendo tra i giovani, su cui bisognerebbe assolutamente anche lì avere un'attenzione maggiore. Noi come comune siamo molto attenti, abbiamo fatto l'anno scorso un tour nelle scuole dove abbiamo spiegato i danni da alcol e anche le sanzioni che prendi mettendoti alla guida di un veicolo sotto ovviamente l'influsso dell'alcol e col tasso etilico sopra a quello consentito dalla legge. Quindi, come dire, il nostro mattone lo mettiamo. È ovvio che poi bisogna fare delle iniziative tutti insieme dove anche la famiglia ha una parte fondamentale nel seguire un po' i ragazzi e non lasciarli completamente liberi di prendere alle volte delle strade sbagliate. Pensate di fare una cosa del genere nelle scuole anche per la ludopatia perché è molto elevata la percentuale dei ragazzi che giocano online? Quello era uno dei progetti che tra l'altro si voleva fare anche insieme ad alcune associazioni che si occupano ed è allo studio del mio assessorato politica di sicurezza. A luglio del 2017 si era parlato di un nuovo nucleo della municipale, i vigili della vivibilità che avrebbero dovuto vigilare in genere anche sulla Movida. Ecco, esiste questo nucleo? Il nucleo esiste, anzi adesso con l'arrivo dei nuovi agenti uno dei nuclei che verrà potenziato è sicuramente questo della vivibilità perché noi crediamo molto nel decoro e anche nel miglioramento della sicurezza con un controllo del territorio da parte dei nostri agenti. e sono coordinati dal commissario Castellani, persona validissima, che conosce perfettamente il centro storico e anche le altre zone della città quindi questo nucleo si occuperà da una parte sul centro storico di avere dei numeri più alti perché purtroppo il crollo del ponte Morandi dovendo mettere nel ponente tutta una serie di notevoli numeri di agenti in più ha diminuito chiaramente il nucleo. Adesso con l'arrivo dei nuovi agenti abbiamo la possibilità di nuovo di farlo ripartire meglio di prima anche a livello numerico questo aiuterà moltissimo e darà una sorta di vigile del quartiere che vigilerà appunto sulle situazioni. volevamo anche rimpolpare un po' quei distretti anche in periferia, penso alla Val Polcevera dove sono arrivati 7-8 agenti in più al municipio Ponente dove sono arrivati una decina di agenti in più che erano distretti sotto organico. Questo garantirà ovviamente il poter presidiare e dare una risposta più immediata e veloce a tutte quelle segnalazioni dei cittadini che ci fanno via mail o tramite il municipio. Parliamo dei centri sociali, ruspe o bando? Perché so che appena si è insediato aveva parlato anche della possibilità di emettere un bando in modo tale che potessero regolarizzarsi e aveva parlato anche di un garante. Allora dunque, su questa partita intanto volevo un po' dipanare le nebbie perché mi dispiace molto anche recentemente di leggere dei post di minacce sulla mia persona, ricordando che se c'è una persona collaborativa ed equilibrata sono proprio io, quindi mi stupisce questo accanimento verso di me dipingendomi quasi come fosse il diavolo che ce l'ha. Io non ce l'ho con nessuno. Quello che ho sempre detto e credo che sia l'unico metro di valutazione di un buon amministratore è quello che devi fare, valere la legge per tutti uguale. Quindi non devono mai esistere figli figliastri perché se tu crei dei precedenti all'associazione che ti arriva, a cui tu hai creato un precedente un mese prima, quello dopo chiede che tu venga a fare le stesse cose di favore che hai fatto il mese prima, non puoi dirgli di no perché avendo creato il precedente, quindi si crea una soggettività di giudizio che è pericolosissima perché allora la gente può iniziare a pensare che uno faccia favori o non favori a seconda del grado di simpatia. Per sedare qualsiasi ed essere un'amministrazione obiettivo, tu devi semplicemente fare rispettare le leggi vigenti. Chi vuole dei locali deve fare domanda al Comune di Genova, che ha una commissione di valutazione tramite l'assessorato al patrimonio e ovviamente quello dell'assessore Picciocchi, se reputa che questa associazione faccia un'attività meritoria, si arriva anche a un abbattimento del canone del 90% e vengono assegnati dei locali. Non è possibile tollerare che uno si prenda al locale abusivamente con la forza, non pagando nulla, facendo anche all'interno delle attività che non sono legalizzate, vendere alcolici, fare concerti in barba, la SIAE e quant'altro, a pagamento pure quelli, sono delle attività illegali che non vanno fatte perché allora chiunque ha una discoteca può dire, bene, allora io metto musica, non pago la SIAE, non pago niente, mi faccio però pagare un bignetto. Quindi non vedo perché bisogna avere un'attenzione particolare verso i centri sociali che in barba tutte le leggi possono permettersi di non pagare nulla e di fare quello che vogliono in spazi che non sono regolarmente presi, perché è uno schiaffo a tutti quelli che si muovono nella legalità. Dopodiché sui magazzini del sale c'è un progetto di ristrutturazione, quindi è evidente che con un progetto di ristrutturazione l'immobile deve essere libero perché non puoi ristrutturare un immobile occupato, questo è da sé. Parliamo dello Zapata. Lo stesso vale per quando decollerà il progetto del centro di educazione ambientale di Amio su a Lagaccio, dove terra di nessuno, anche lì se serve uno spazio tu non è che puoi dire non faccio un progetto perché c'è un posto occupato abusivamente. Se queste associazioni pensano di fare attività meritevole, partecipano ai bandi del comune, si mettono in graduatoria e nessuno, se l'attività che fanno è meritoria, negherà mai uno spazio. Ha suscitato malumore, diciamo così, la questione delle multe agli automobilisti. Si era detto che la Polizia Municipale avrebbe levato più multe, però quello che volevo chiedere io è un'altra cosa, nel senso tutti parlano di sicurezza, la Lega ha vinto a Genova anche grazie a queste politiche di sicurezza, però quando poi la sicurezza e il multe toccano noi stessi non va più bene. Appunto, no no ma infatti anche qua c'è da dipanare altre nebbie. Allora è evidente, ora mi rifaccio alle multe date diciamo via 30 giugno e quant'altro, ad esempio per aver superato la linea continua, noi abbiamo avuto dopo il crollo del Ponte Morandi un aumento degli incidenti stradali in maniera sensibile. Tra l'altro ricordo a tutti che Genova è una delle città con il più triste primato di numero maggiore di incidenti e di morti in città. Primato che io voglio assolutamente abbassare, ma perché credo che sia importante che questa amministrazione, come tutti i buoni amministratori, cerchino di ridurre i morti e gli incidenti perché abbassano ovviamente la sicurezza e non solo, fanno pagare dei premi assicurativi molto più alti in altre città. Se pensiamo che Genova paga il doppio di RC Auto di Alessandria o di Asti o di altre città anche più grandi, trovo che sia un bene comune cercare di abbassare ovviamente questo primato pessimo. Quindi se esiste una legge che ti vieta il sorpasso quando c'è la linea continua, perché lo devi fare? Oltretutto è chiaro che dopo il crollo del Ponte Morandi, essendo aumentato il traffico ed essendo aumentato gli incidenti, non poteva non esserci un controllo maggiore da parte della Polizia Locale. Nessuno vuole dare le multe perché uno magari è di 3 cm fuori dalla linea blu. Si tratta di multe, ad esempio, su chi va a 100 all'ora in via Righetti in Albaro, che è una roba da folli e da criminali, o chi va a 100 all'ora in Corso Europa, chi va a 110, 120 sulla Guido Rossa e via, potrei citare altri mille casi, perché mettono queste persone irresponsabili, che io chiamo dei potenziali assassini, perché così sono, a rischio la vita di magari quel cittadino che prendiamo via Righetti, attraversa la strada per andare di sera a buttare la spazzatura e magari non torna a casa. E visto che è una cosa che può capitare anche alle nostre famiglie, francamente non mi sembra di dover utilizzare una linea morbida nei confronti di chi non capisce che la vita umana deve essere messa sempre al primo posto.